L'altra sera, all'eredità, il concorrente doveva indovinare la parola amnesia e la definizione era vuoto di memoria. O sapete cosa mi ha risposto? O volete proprio sapere? Se c'ho un vuoto di memoria non posso rispondere, mi suggerisca lei. Ma dove è finita l'educazione civica che non si impara più neanche nelle scuole? Da persona gentile io gli ho risposto, ma che fai? O sferidoso! E l'ho cacciato via dallo studio, fuori dallo studio gli ho detto, perché io sono sempre al di sopra di tutto, volo libero nel cielo, indossando la mia tuta d'astronauta e godendo di tutti i colori dell'arcobaleno. C'è il giallo, c'è il grigio, c'è l'arancioni, c'è il fucsia e io continuo a volare, pagandosi per i miei errori, ma sempre nel segno della libertà e della coerenza. E adesso chiamo ufficialmente a partecipare come concorrente un personaggio illustre, in gamba, una garanzia, il mio amico Fedez. Però aspetta un attimo, c'è già Loreto Carbone di chi l'ha visto che vuole prendere la parola, nel prossimo video, e spiega perché Fedez non può partecipare come concorrente. Sentimo cosa dice. Un saluto dal vostro Flafiuccio Insinnuccio Insinna. Alla prossima. Ci rivedremo, non lo so, qui è il Sabbe.